Musica Un carrello informatizzato per interreagire con i degenti, un carrello vero che funziona senza fili, un carrello che già consente un miglioramento in termini di qualità dell'offerta sanitaria, pensiamo che con questo carrello, quando i nostri operatori vanno a trovare il degente, non solo possono visualizzare tutti gli esami diagnostica strumentali fatti, ma questa è una cosa bellissima, la prima volta che si verifica da Napoli in giù, ma si può prenotare direttamente un esame da questo carrello di diagnostica strumentale. Senza alcuna autoreferenzialità, la legge dura dei numeri dice che la sburocratizzazione è stata avviata in maniera concreta dalla nostra azienda, cito subito i 278 mila palermitani che non hanno preso l'automobile, immaginiamo cosa significa in termini di abbattimento dei costi sociali, mi riferisco all'esenzione online, quindi 300 mila palermitani a casa comodamente hanno ricevuto un certificato, mi sembra che questa è una vera sburocratizzazione fatta con carte, con dati oggettivi e non con parole. Certamente è una soluzione innovativa dal punto di vista tecnologico che va a completare quello che è già stato il sistema di digitalizzazione e informatizzazione delle immagini radiologiche e mediante questo carrello che è un normalissimo carrello diciamo di degenza per le visite al letto del paziente è stato integrato con una sorta di guostation di visualizzazione delle immagini per cui il clinico potrà fruire immediatamente al letto del paziente delle immagini diagnostiche, del referto diagnostico eventualmente se valuterà l'opportunità di integrare lo studio con altre indagini diagnostiche potrà direttamente in corsia al letto del paziente formulare la sua richiesta per via telematica il tutto avviene mediante una rete senza fili, quindi wireless, quindi una fruizione immediata assolutamente agevole il che evidentemente è un motivo di orgoglio per la nostra azienda essendo una soluzione tecnologica che la prima volta viene introdotta in un'azienda sanitaria nel nostro sistema regionale in Sicilia